Si chiama Brent Christopher Hurt, a 40 anni d'età, è un uomo straniero che vive a Pankovs che gli usa e pensate che è accusato di avere posto stupefacente, droga, ma anche di non servenza delle forze dell'ordine, in quanto avrebbe cercato di scappare via grazie ad un controllo che c'era stato. L'uomo in questione infatti ha finto di avere un infarto mentre era stato arrestato in un controllo in un posto di blocco americano, di polizia, infatti si sospettava che avesse delle stupefacente, cosa che è stata vista, ma all'improvviso mentre il controllo ci stava l'uomo ha detto io sto male, sto malissimo, un infarto in atto, ed ecco quindi chi stava recitando il ruolo del malato immaginario e alla fine però se ne sono accorti è arrivata l'accusa e si apriva il processo per al suo prego. Insomma tutto questo per scampare l'arresto, che però ovviamente c'è stato lo stesso. Da Natale di Togliani tutto, ciao!